Il mico-medio che puoi fare? Quanto date? Io prima ti stai per i giornali su un canale e mi manda a come ho visto la mia domanda dove è? Dopo a una borsa devo contando possare più e uccide questo è un'altra cosa e poi vogliamo con voi in caso di non poter mangiare aprirlo per la mia video Grazie. Grazie. 200 mila euro, 200 mila euro, io ho una famiglia di Cognopi, oggi sono 5 mila euro. Carlo, dalle me dalle signore, il panizzo da il pipì. Ma che so mai che il primo indecisivo se la pesce per 2 mila euro che erano lì? Sono anche firmato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Luca, grazie. Luca, questo me la giaveliano poco. Questo me la giaveliano poco, un po' di caffè me la giaveliano. Ciao.